allora ciao a tutti vi faccio vedere la pitaia un ragazzo matteo mi pare si chiami mi ha chiesto in che vasi mettere la pitaia ora io l'ho seminato in un semenzaio classico più o meno gli alveoli sono rossi a me questo vasetto questa qui io l'ho messa a febbraio marzo mi fare sostanzialmente due mesi più o meno ferma così quindi questo un vasetto dove resterà io penso per parecchio vi faccio vedere anche quell'altri ho comprato i colorati mi fareanno bellini e questo giallo questa da questi spunzoni spero tanto quest'estate mi facciano frutti a quattro anni questa queste più o meno due o tre anni questo invece il cipetini che voglio fare in come si dice bonsai questo è un'altra carnivora comunque si la risposta ecco questo per dire un vaso da 25 litri e c'è questa pitaia che per l'appunto ha quattro anni e quindi voglio dire di tempo insomma sui cenai io li seminirei in semenzaio o magari li metto in un vasetto così e con l'estate dovrebbe insomma crescere semmai arriverà quest'anno ok rivelaci rivelaci